da singolo a gruppo di cigni oppure da singola coppia, quindi questo tema di trasformazione dell'etatmosa è quello che ci ha aiutato nella creazione. Altra parte, quello che avete visto voi sono due strati da lato bianco, lato bianco è quello che abbiamo voluto utilizzare noi come struttura, la struttura base per l'etatmosa. Nel lato bianco del valido classico sono solo ragazzi, nel lato bianco di mette buono sono solo uomini, in questo caso sarà un mix di uomini e donne e non ci sarà questa identità di solo cigni bianchi e solo cigni neri, ma in diversi momenti lo spettacolo sarà sia bianco che nero. Questo cigni bianco e cigni nero, come lo teniamo noi, è più una parte bianca e una parte nera che c'è dentro l'unico di noi, quindi non saranno cigni che fanno i cigni nello spettacolo, o comunque non saranno cigni buoni e cigni cattivi, ma vi faranno vedere diverse parti della stessa persona, quindi l'emergere più di un lato, tra virgolette, bianco e alternato all'emergere di un lato più oscuro. Quindi quello che noi infatti poi faremo oggi sostanzialmente con voi è proprio lavorare su questa idea di trasformazione, lavorando più sulla parte bianca o sulla parte nera, perché dobbiamo per forza scegliere qualcosa su tutti questi aspetti e ci sembrava interessante lavorare su queste due parti. Quindi il lavoro che adesso farete insieme a Federico e ai datatori è proprio il lavoro di riscaldamento del corpo attraverso una tecnica ben precisa che viene utilizzata da partire soavi durante le sue lezioni, quindi vedrete comunque anche un approccio molto semplice, niente che vi possa spaventare o mettere a disagio, è anche abbastanza divertente, però questo inizio, questa prima sperimentazione vi sarà poi utile dopo nel momento in cui invece vi chiederemo di lavorare su di voi, di mettere dentro a quel gesto un'intenzione vostra.